Salve siamo qui con Alan Wolf di Magico ci sono due importanti novità e ora abbiamo due importanti novità Il primo è il canale centrale questo è il canale centrale per la nostra serie S questo ciò che complementa il S5 per l'ambiente di teatro Quando sarà disponibile? È disponibile ora, stiamo iniziando a vendere questi centri Ok, e qual è la S1 che abbiamo ascoltato in un'altra sala? Abbiamo iniziato a vendere questi centri anche Questi sono stati disponibili in diversi colori Potete vedere le altre opzioni che abbiamo sul S1 Questo è il nostro nuovo livello di entrambi e funzionerebbe molto bene in piccola-media e avremo complementare il resto del S-Series Excelente! Abbiamo aspettato a una testa di l'ascoltamento molto presto Sì, spero sia L'italiano distributore Grazie molto per il vostro tempo Grazie Marco Grazie